Vedo che Morbius sta facendo schifo e ripeto che doveva essere diretto da Mainetti Doveva dirigere anche i due te, non Mainetti, ma dai Eh, ma lì secondo me è tanto Sony che ci ha messo lo zampino Il regista non mi sembra che sia molto contento del risultato finale Quindi secondo me lì è Sony che ci ha messo lo zampino Chi è il regista di Morbius? Non lo so Ne ho parlato appunto qualche giorno fa con Rob e con Gabriel di Morbius E mi sono fatto dire un po' le cose, le scene post-credit e simili La definizione che ha dato Rob è una puntata di buffe ad alto budget Ma il fatto è, perché fare un film su Morbius così? Morbius non è un antire come Venom, è cattivo e basta In realtà no, Dead the Kid, dipende dai cicli narrativi che vai a leggere Ci sono cicli narrativi di Morbius in cui Morbius si allea con Spider-Man e con Blade Per ammazzare dei clan di vampiri Morbius ha avuto varie iterazioni nel corso dei decenni Il problema di Morbius è che la trama non è stata scritta bene per gli attori che sono molto bravi Eh o eh? Eh sì, Jared Letton non ne sta azzeccando più una Ti dico Nick, avevo visto un post con Ryan Reynolds che sorride Quando sei sia nel peggiore film Marvel che nel peggiore film DC Ma poi arriva Jared Letton